Siamo all'oratorio Papa Giovanni Paolo II ad Agropoli in compagnia di Vito Rizzo che presenta il suo nuovo libro Chiesa dove sei? Papa Francesco e la chiesa del terzo millennio. Allora un lavoro molto interessante dove insomma all'interno di questo testo cerchi di spiegare un po' quale sia il ruolo della Chiesa in questo momento particolare della nostra vita, una vita un po' veloce, una vita un po' frenetica. Diciamo che il libro è un tentativo di comprendere la visione di Papa Francesco. Allora noi sappiamo che i Papi sono scelti in conclave con l'ispirazione dello Spirito Santo e quindi ci si chiede come mai un Papa venuto dal Sud America, un Papa gesuita, un Papa che usa un linguaggio che non è il linguaggio classico che di solito si attribuisce alla Chiesa e evidentemente perché la Chiesa è chiamata a vivere una stagione diversa, una stagione che si è aperta con il Concilio Vaticano II e Papa Francesco dice proprio quello, dice i concili hanno bisogno di solito di cento anni per essere attuati, siamo a metà strada perché dagli anni sessanta adesso siamo a metà strada quindi questo spirito di Papa Francesco è qualcosa da capire anche perché di Papa Francesco se ne dà una lettura tante volte semplicistica e allora bisogna un attimo capire qual è la sua storia, qual è il suo percorso umano, il percorso spirituale che poi porta a dire delle cose anche in maniera molto drastica, molto dura come poi è tipico anche della Chiesa sudamericana e allora l'idea del libro è quella di confrontarsi di andare proprio alle radici di Papa Francesco e poi di spiegare come le coordinate che Papa Francesco ci dà possono essere utili per ciascuno di noi che vive la Chiesa quindi per i vescovi, per i sacerdoti, per i fedeli perché la Chiesa è una Chiesa che deve come un'altra figura che usa Papa Francesco che deve essere ospedale da campo, allora significa stare vicino ai bisogni delle persone, comprendere che come dicevi tu un'umanità che tante volte sembra smarrita ha bisogno di una Chiesa che accompagna la scoperta di Cristo e quindi diciamo che Papa ci sta mettendo molto del suo, io credo che sia un pontefice molto ispirato e che è in forte continuità con un linguaggio diverso rispetto ai suoi predecessori quindi anche questo è qualcosa su cui è bene è bene indagare. Ecco dopo tutte queste spiegazioni molto approfondite e quindi interessanti dove possono trovare i nostri amici il tuo libro, quindi il libro di Vito Rizzo. Diciamo che stiamo attivando anche la vendita online ma io dico in questo periodo natalizio la cosa più bella è andare nei negozi, nelle librerie e in particolare partner anche di questa serata Largo Libro quindi una libreria indipendente e quindi l'invito che faccio è andare a Largo Libro dove tra l'altro ci sono le copie già autografate quindi è un modo anche questo per rendere ciascuna copia personale quindi l'invito che faccio a chi anche vuole fare un regalo di Natale, a chi vuole comprendere un po' di più il senso profondo della Chiesa di oggi può acquistare questo libro, leggerlo durante appunto il periodo natalizio anche perché il prezzo di copertina per una scelta che come casa editrice FD che poi è l'associazione che organizza anche il festival della teologia e che adesso con questo testo lancia una serie di pubblicazioni in ambito teologico è molto accessibile, soltanto 10 euro per il testo quindi realmente è un regalo. Come in dialetto si dice se sparagna e se comparisce può essere un ottimo regalo anche per questo quindi si fa bella figura perché si dice ti regalo un libro e già questa è una bella figura e poi si spende poco e quindi si fa un bel regalo a basso costo. Io penso un gran bene per il fatto che un laico si cimenda con un argomento così impegnativo perché non è facile mettere insieme il pensiero articolato di Papa Francesco e poi un pensiero dinamico sulla Chiesa. Lui ne ha parlato in tante situazioni e circostanze e quindi positivo per questo. Positivo perché offre come dire una lettura sistematica di un pensiero dinamico è andato raccogliendo molto materiale nell'arco di questo decennio quasi del papato di Papa Francesco e ci ha offerto veramente una lettura diciamo che presenta complessivamente quello che Papa Francesco propone per la Chiesa centralizzando un'immagine la Chiesa come ospedale da campo cioè deve stare al servizio di un'umanità che è ferita da tante realtà da tante situazioni non una Chiesa che spadroneggia ma una Chiesa che serve. E poi come dire importante è che si esce fuori dal sacro recindo dei preti che si occupano di queste cose dei religiosi ma che ci siano persone del popolo di Dio che fanno loro questa riflessione cioè persone impegnate affinché possiamo avere un'idea più adeguata della Chiesa cioè Chiesa dove sei è una sorta di parafrasi di una domanda che Dio pone uomo dove sei cioè il Signore ci interpella affinché possiamo sempre essere consapevoli del cammino che stiamo facendo a che punto stiamo se ci sono passi indietro ci sono passi avanti e anche la Chiesa deve farsi sempre questa domanda no? Stanto dovrebbe stare sempre sulla frontiera e quindi dovrebbe decidersi ogni giorno a favore dell'uomo perché poi la Chiesa è fatta di uomini no? Il capo è Cristo ma è fatta di uomini e quindi sapere l'uomo dov'è significa sapere anche la Chiesa dove deve stare perché la Chiesa deve stare là dove l'uomo Padre Carlos ad Agropoli per la presentazione dell'ultimo libro di Vito Rizzo Chiesa dove sei una Chiesa del terzo millennio che dal centro c'è comunque Papa Francesco la sua lettura? la mia lettura? beh sicuramente Vito ha cercato di mettere al centro questi quattro principi che ci dà il Papa Francesco che non posso ripetere perché sempre mi dimentico di qualcuno alla luce di questi quattro principi fare una visione sulla Chiesa del Papa Francesco e poi come ampliare il cerchio e dire e adesso come andiamo al dialogo ecumenico e poi come andiamo a tutta l'umanità nella fraternità no? E quindi io penso che questo è stato il suo il suo tentativo anche come dicendo la Chiesa deve essere una Chiesa in uscita e la chiave è il discernimento siamo una Chiesa che deve discernere almeno il Papa ci chiede questo grazie mille Grazie a tutti